I fratelli Coen, come mai fuori concorso? I fratelli Coen fuori concorso? Questa è stupenda questa domanda, perché i fratelli Coen non hanno voluto andare in concorso. Mi spieghi infatti come è avvenuta la dinamica, perché in conferenza diceva che il film invece era adatto, è un bel film. Il film secondo me è un film da concorso, anzi da super concorso, ma come molti degli autori super affermati, i fratelli Coen abbiamo lavorato molto per averli a Roma, non è che noi siamo Cannes, quindi abbiamo lavorato molto per averli a Roma e ho tutto il lavoro accorto. L'istributore italiano avrebbe molto amato averli in concorso, anche perché credo che sperasse naturalmente in un premio. Però loro, non direttamente loro, questo non potrei dirlo, ma insomma la distribuzione internazionale, i venditori internazionali hanno deciso che era meglio il fuori concorso. Del resto anche Ivory è in fuori concorso, anche le conserra a Domileano hanno cercato di cominciare ad essere in concorso. Ci sono ovviamente, c'è chi vuole rischiare sul concorso e chi non vuole rischiare. E' chiaro che poi per i Coen, eventualmente, la dinamica la conoscete, essere battuti. Ma io trovo straordinario che loro siano venuti con il loro film a Roma, in prima internazionale, è comunque una vittoria.